Siamo a Remini Welles con Fabio, personal trainer di Flowing. Ci spieghi cos'è questo workout, cosa tonifica, quali sono i benefici? Il Flowing è un attrezzo dove viene dalla Svezia e il movimento principale sul Flowing non è lo scivolamento ma è un frizionamento. Cosa significa? Abbiamo dei feltri, quindi ci dà la possibilità di controllare il movimento. Ma nel movimento dobbiamo avere il controllo di tutto quanto il corpo. Mettiamo in azione muscoli stabilizzatori, muscoli core, la powerhouse. Quindi non andiamo sul singolo muscolo ma andiamo nella totalità. Vediamo il corpo in un'unica orchestra. Dove vi troviamo? Ci troviamo in tutta Italia, corsi di formazione con la Human Zone di Manuela Zingone, quindi sul sito Human Zone e la distribuzione del Flowing e della The Global Food. Va bene, ti ringrazio Fabio. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Grazie.